Sostegno psicologico a chi è in quarantena e a chi teme di andare a lavoro. Basta infatti un messaggio WhatsApp per avere il servizio di psicoterapia online della CGL. Pensiamo che stare a casa sia un dovere, ma anche essere sostenuti nel farlo sia un diritto, ha commentato Alessandro Mugnai, segretario provinciale. Il nostro servizio di psicoterapia è attivo da tempo, ma adesso lo stiamo sviluppando per sostenere lavoratori e pensionati che stanno affrontando una situazione nuova e drammatica. Sono principalmente due gruppi in difficoltà, ha commentato Benedetta Ricci, la psicoterapeuta. Ci sono infatti le persone in quarantena e quelle che vanno a lavoro, ma con ansia e preoccupazione, a cominciare dagli operatori sanitari. Per tutti siamo di fronte agli sviluppi di sintomi da stress post-traumatico, che è costretto a rimanere in casa, infatti vede compromesso il normale ciclo sonnoveglia. Si sviluppano poi anche previsioni catastrofiche sul futuro, sostenute dalle fake news e da un'informazione centrata in modo quasi esclusivo sul coronavirus. Chi va a lavorare invece, soprattutto i sanitari, vive in uno stato di costante attenzione e non ha la possibilità di rilassarsi o dedicarsi ad altro. Il servizio di consulenza CGL, che per questa emergenza è completamente gratuito, si attiva inviando un messaggio WhatsApp al numero 392 32 79 643.